Si sta svolgendo in questi giorni a Frosinone, presso la parrocchia di Madonna della Neve, la 41esima edizione delle Olimpie di Vittoria. Tante magliette e nastri colorati che contraddistinguono i rioni delle città. L'impianto sportivo della parrocchia in questi primi giorni di settembre si è trasformato in un vero e proprio villaggio olimpico. Attraverso questa manifestazione si è voluto regalare ai più grandi e alle famiglie, oltre che ai bimbi di tutte le età e provenienti non solo dal capoluogo Ciociaro, ma anche dai comuni limitrofi, sani momenti di svago. Abbiamo iniziato alla grande, abbiamo superato il numero di iscritti rispetto all'anno scorso, le serate procedono meravigliosamente, l'affluenza da parte dei genitori è aumentata moltissimo e di questo ne sono lieto. Era il nostro obiettivo e ci stiamo riuscendo alla grande. Speriamo soltanto che il tempo ci aiuterà con il sole. Quanti iscritti quest'anno? 650, 100 in più all'anno scorso. Mediamente metà maschi e metà femmine, forse un po' di più maschile. Per esempio le categorie più piccole sono più donne, mentre le più grandi sono più maschiette. Il calcetto vince su tutti, poi la palla a volo, l'attretica piace un po' di meno perché è un po' di più faticosa. Il nostro intento è riuscire bene nella manifestazione, credo che ci stiamo riuscendo, speriamo che andrà avanti così. Un evento che nel tempo è maturato così talmente tanto che credo, credo che in tutto il centro sud non ci sia un evento che faccia divertire i ragazzi, 4-500 ragazzi l'anno come questa Olimpiade. Ha creato generazioni, questa è partita da 40 anni a questa parte, qui sono cresciuti generazioni di bambini. E quindi questo evento è veramente un evento eccezionale che deve andare avanti e bisogna che alcuni si interessino a questa cosa per farla crescere sempre di più. Non dimentichiamo che in questa Olimpiade sono cresciuti anche atleti che hanno vinto poi le Olimpiade, quelle vere e proprie, come Fabrizio Donato per esempio, che è cresciuto qui, ha gareggiato con i miei figli Fabrizio Donato, perché oggi hanno 40-41 anni. Quindi ragazzi andiamo avanti, sotto con questa Olimpiade facciamola diventare ancora più grande. Cosa fai in queste Olimpiade? Salto lungo, dama, atletica, tante cose. Come vanno i piazzamenti? Bene, sì ho vinto una medaglia d'oro, solo una, però ci accontentiamo insomma. In che categoria? Tiro a segno. E come sta andando? Ti diverti, conosci tanti amici? Sì, sto facendo molte amicizie nuove, mi sto divertendo, alcuni li conoscevo già ma altri amici no. Queste Olimpiadi stanno andando molto bene, ci stiamo divertendo, stiamo facendo nuove amicizie e in questi giorni ancora non abbiamo vinto nessuna medaglia perché sono tutte eliminatorie, però speriamo di vincere qualcosa e l'importante è comunque partecipare e non vincere. Ciao, come ti chiami? Davide. Che disciplina fai qui? Qui oggi devo fare gli 80 metri. Come ti stai piazzando nelle classifiche? Allora, ieri a Ping Pong sono uscito subito 7 al 5 e sono arrivato quinto ai 500 metri. Quindi diverse le categorie? Sì, le categorie sono diverse. E ti stai divertendo, stai facendo amicizia? Sì, mi sto divertendo. Che gareggi? 80 metri piani. Tutti e 80 metri piani? Sì. 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 Sì.